E in between c'è una struttura che contiene il nucleo, quindi è esattamente lo stesso di quello che vi ho mostrato nella categoria di sectione, e questo è un'imministrazione di questo. Questa è una giornata molto importante per l'Università di Bari, in quanto posso dire che io che mi sono sempre molto impegnato con tutta la scuola della ginecologia di Bari sull'oncologia ginecologica, sento dal vivo un maestro di cui ho studiato tutto quando ero un po' più piccolino e quindi è un momento di grande gioia. Le prossime sfide hanno a che fare con il mantenimento della fertilità dopo l'asportazione del cancro al collo dell'utero, la strada in compenso è tracciata. L'intuizione che il professor Kerley ha avuto di fatto nel 2008 è stata un'intuizione fantastica perché ha portato quello che era stato il passato, cioè un'esperienza con una tradizione orale di studiosi, ha portato finalmente dei paletti chiari, anatomici, per cui è una classificazione adesso della chirurgia ginecologica ripetibile, riproducibile a livello mondiale.